Calcio d'angolo, attenzione, questo calcio d'angolo, battuto, palla in mezzo, il gol dell'Empoli con Siani che si addormenta clamorosamente e l'Empoli è in vantaggio, è una Lazio che non c'è oggi, dai, Barba riesce a fare un gol con Siani che si accorge di Barba in area di rigore, ma dopo tantissimi secondi, ma c'è proprio un vuoto dentro l'area di rigore della Lazio con 3-4 giorni sul primo palo, guardate che Avanda lo perde anche Siani della serie, proprio loro due, come al solito, non c'è niente da fare Centimere che non mi sembra abbia molto più di Siani, sta anche un po' fortunato perché la palla poi ha una strana traiettoria ma l'anticipo è netto, Cavanda, attenzione a questo calcio di punizione, non vedo la cattiveria agonistica della Lazio, non la vedo non c'è rabbia, attenzione, Maccarone, gran gol di Maccarone, difesa addormentata, Lazio veramente inguardabile torniamo con i piedi a terra perché non diciamo a nessuno che la Lazio può arrivare al terzo, al quarto posto ma questi sono due schiaffoni che ci fanno bene per ritornare a terra perché è veramente una squadra per adesso senza attributi perché se prendi il gol così, c'è veramente l'Empoli con... guardate che blocco, guardate che bella calcio di punizione e questo è anche merito dell'allenatore perché parte Maccarone, gli fanno blocco a De Vrai e la Lazio che addormenta ma proprio linea difensiva da dimenticare e forse si riapre la partita, vediamo se adesso siamo una squadra vera grazie